Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sui nostri schermi. Allora, è attrice, stand-up comedian, è una bellezza picassiana e cross-mediale, quindi si è fatta tra web, radio, tv, teatro e anche cantante con il singolo di grandissimo successo, il Mignottone Pazzo. Allora, ma anche dei difetti, il più grande di tutti è non chiamatela mai per nessun motivo curvi, giusto? Sì, esatto. Benvenuta a Michela. Scioccata perché non so mai se si può parlare del titolo della mia hit, capito? Ma si può parlare, si può parlare. Mi tengo sempre un pochino. È un titolo molto aggressivo se vogliamo, però è giusto, deve essere così, del resto voglio dire, è stata una hit di successo, non per nulla insomma. È stata una hit di successo, quindi bisogna memento a odere sempre. Esatto, bravissima, ottimo inglese, bravissima. Allora, dicevamo, Michela Giro, la verità lo giuro, che è questo spettacolo, una produzione originale di Netflix, che andrà appunto su Netflix dal prossimo 6 aprile, giusto? È il tuo spettacolo, lo spettacolo che tu hai portato a teatro per tutta l'estate, insomma, per tutto l'anno, e lo hai ripresentato. Allora, è uno spettacolo divertentissimo, dura un'ora, insomma, diciamo, in cui ovviamente si ride tantissimo. Quindi ti faccio i complimenti, hai raggiunto il tuo obiettivo, a meno con me, speriamo anche con tutti quanti. Meno male, speriamo anche con gli altri. Allora, raccontami un po', insomma, innanzitutto hai parlato molto di te, forse è lo spettacolo in cui tu hai parlato più di te stessa, giusto? È vero, è vero. Come mai hai deciso? Beh, vuol dire che hai visto anche gli altri? Esatto. Sono contenta. Perché ti seguo, io ti seguo, sono un tuo follower. Un follower, bene, bene, sono contenta. Ma non è un hater però, vai. Meno male, è vero male. Ma guarda, sai cos'è? Che in realtà è stata una cosa che abbiamo fatto un po' a quattro mani, perché Netflix me lo ha chiesto, mi ha chiesto presentati, presentati al nostro pubblico, giustamente noi, il pubblico di Netflix non ci conosce, non mi conosce, non conosce il mio mondo, quindi ho dovuto scrivere qualcosa come se io mi dovessi presentare e quindi mi sono presentata, ho messo un po' da parte una serie di cose che davo per scontato, perché io poi sono molto autoreferenziale e quindi ho messo da parte questa cosa qui e ho iniziato come se dovessi, tra virgolette, presentarmi a un pubblico che non mi conosceva, quindi ho parlato da una serie di cose che mi erano capitate fino a comunque entrare sempre più nel dettaglio parlando della mia famiglia, parlando del mio percorso e cosa mi ha portato a essere qui su queste poltrone del Corriere dello Sport, che non è lo sport, perché io e lo sport siamo due rette parallele che non si incontrano, ricordiamo questa cosa. Ok, fissiamo bene questo punto, però poi dopo ne parleremo lo stesso, lo sport, anche se non... No, no, ne parliamo, però vediamo cosa avrò da dirvi, perché insomma molto poco. Allora, c'è questa cosa che si dice sempre, che è una cosa bellissima di Netflix, che il tuo spettacolo verrà presentato tipo in 190 paesi, allora dal palcoscenico dove tu hai presentato quello spettacolo che era a Roma, giusto? Sì, al vinile. Al vinile, esatto, di Roma, verrai catavoltata in 190 paesi. Quando ti dicono questa cosa, qual è la prima cosa che tu pensi? Io penso... ma sai cos'è? È che io penso sempre, tu devi andarlo a vedere, non ci penso, perché dico, per me l'importante è tanto che sto vedendo in Italia, poi sono molto felice che lo vedano in altri 189 paesi, però io aspetto le prove, cioè io voglio le prove che qualcuno da Seoul mi tagga, che qualcuno da Parigi, qualcuno da Lisbona, che mi dice l'enquayab, veri fan e altre cose che sono poliglotta, non voglio fare quella che se la tira, che come sai parlo tante lingue, però insomma, cioè io voglio proprio vedere se ci sono delle stories dall'altra parte del mondo, insomma. Senti, allora, cominciamo a parlare un po' del tuo spettacolo, c'è tanti termini che affronti, io li voglio affrontare più o meno tutti, lasciando qualcuno per non spoilerare troppo. Allora, perché questo rancore nei confronti della maestra Pina? Beh, perché la maestra Pina, che tra l'altro è una metonimia, cioè non esiste lei, cioè esiste lei ma aveva un altro nome, solo che però non incorre nei problemi. Come nei giornali, che tu metti un nome di fantasia. Esatto, esatto, Gino, nome di fantasia, perché comunque diciamo era proprio una cosa in punta di forchetta, nel senso a me tutto quello che ero tra virgolette abituata a fare era un qualcosa che era lontano da me, quindi era mettiti dritta, usa coltello e forchetta da frutta e d'antipasto, fai danza classica, cioè è sempre stata una sorta di contenimento. Io non ero molto brava a danza come nessuno sport e io vengo da una famiglia molto sportiva, quindi questo è stato un grande cruccio e chiaramente insomma la maestra Pina ha detto a mio padre, guardi forse è il caso che le tolga le sue figlie da questo corso perché sono le più grasse di tutto il corso. Mio padre me l'è venuta a dire cercando un tatto che però non è arrivato, io avevo anni sette, sono rimasta scioccata e quindi come dico maestra Pina vadi, vadi fantocci, non so come ecco, che poi tutto quello che accorre lo tengo nello special, io nelle interviste mi un po' cerco di, capito, un po' più polite diciamo. Esatto, bravo. Bene, allora senti, poi c'è questa tua scarsa sopportazione appunto come abbiamo detto prima all'inizio dell'introdurre la tua persona che tu non sopporti il termine curvi, come non sopporto, perché secondo me il termine curvi è un termine che si va a inserire all'interno di una catalogazione che ti va a definire laddove tu sei in quel momento ingrassato, cioè tra virgolette per il curvi, perché poi c'è un altro, ci sono altri termini riguardo a magari qualcuno che viene definito troppo macro, non è mai stato il mio caso quindi insomma non ne parlo perché non mi riguarda, però ti dico a me è una cosa che non piace perché è come se ti definisse, no? È come se ti dicesse tu sei così, appari così, quindi tu dentro pensi così, invece ognuno di noi dentro ha una storia e non può essere catalogato in base a come appare, è una cosa che la trovo un po' superficiale e non mi piace. Benissimo, perfetta proprio direi. Ottimo, giusto. Allora senti, parli anche nello spettacolo dei maschi bianchi eterosessuali che sono una razza in via di estizione, non troppo, non troppo, sono una razza però in via di estizione come i dinosauri, giusto? Lo spettacolo quando lo hai registrato? Un parità di tempo fa? Quanto tempo fa? Eh, si può dire a ottobre. Da allora la situazione è migliorata o è peggiorata per i bianchi maschi eterosessuali? No, mi sembra stabile, cioè male stabile, male stabile. Sempre in mia distinzione comunque. Sempre in mia distinzione male stabile, tra virgolette. Benissimo, allora senti, un altro tema che tu affronti appunto è quello dei social, no? Allora noi viviamo nell'era dei tribunali dei social, no? Certo. Cioè tutto quello che noi diciamo, scriviamo, commentiamo, eccetera, passa tutto attraverso il tribunale, giusto? Sì. Delle versioni, e poi decidono se stroccarti oppure se lo puoi dire o meno. Certo. Allora tu, ci sei passata anche tu? Io ci sono passata. Ci sei passata proprio, con tutte le ruote, come si dice? Sì, sì. Ti sei passata tutto. Allora, com'è essere una stand-up comedian? Comunque fare comicità comunque in un'era in cui appunto siamo nel politically correct, nella cultural culture, insomma siamo in un periodo un po' così, un po' delicato. È complicato fare... Sì, è delicato, però è il nostro lavoro, cioè nel senso che a noi non è richiesto di andare a spalare le miniere in Galles o di andare a portare il latte porta a porta o di guidare per il traffico di Roma per sei ore. Noi con le parole lavoriamo. Il nostro obbligo e dovere è starci attenti nella misura in cui poi ci vogliamo essere attenti. Se non ci vuoi essere attenti non ti importa nulla, non ci stai attento. È chiaro che comunque insomma io sono una persona che a queste cose ci sta attenta anche troppo. Io ho attraversato un percorso perché se tu vedi quello che ho fatto cinque anni fa non è uguale a quello che faccio oggi, perché quello di cinque anni fa è molto più al core. Perché c'era un'altra sensibilità? Io cerco di stare attenta alla sensibilità che c'è, ma non perché io non voglio rompere le regole, ma perché ci sono delle sensibilità che sono diverse, delle cose che tu acquisisci. Quindi è chiaro che certe parole che prima venivano dette con più leggerezza, ora che le cose sono cambiate, uno si informa, beh ci pensi un attimo. Alla fine che c'è richiesto a noi? Di pensarci un attimo se ti interessa. Se ti interessa alla fine, sì, sono tante persone che ti scrivono al contro, però non è che c'è il fatto come magari in America dove ti possono effettivamente togliere un lavoro, perché queste cose che capitano da noi non è così. Però insomma sta la sensibilità e l'intelligenza di ognuno. Assolutamente. Vuoi raccontare anche il caso che ti è capitato? Guarda, io sai che non ne racconto mai, perché io penso che tutto quello che mi capita trovo le parole per parlarne nello spettacolo. E quindi io dico guardatevi lo spettacolo perché tutto quello che ho da dire sta là. Io non ho mai parlato nei giornali, c'è una mia politica, cioè io ho questa politica, quando c'è tra virgolette uno scandalo, una provocazione, mi è capitato di avere delle persone. Io lascio correre perché è una cosa molto complicata perché io sono una rosicona, però è una politica che mi ha insegnato del mio maestro Saverio Remondo, che è quella di dire tu non devi cadere in queste trappole, ma anche perché diciamo che anche quando ti capitano delle cose, noi siamo umani, io sono una persona molto ansiosa e magari vengo presa da una serie di non ho il sangue freddo e magari puoi dire cose di cui non ti penti, ti incarti, oppure non le hai digerite. Io scelgo sempre di non parlare, per quanto ho avuto tante occasioni per farlo, perché sono stata tirata in ballo tante volte, poi stasera una ragazza, ho questa faccia, sono un po' impudente, quindi alle persone viene più semplici tra virgolette di darmi addosso. Io cerco di tutto quello che ho da dire e lo dico là. Ma una curiosità, il tuo modo di fare comicità e ironia cambia a secondo del palcoscenico in cui ti subisci, un conto a teatro, un conto in televisione, un conto sui social anche magari, che ne so. Sì, perché l'importante è il contesto, cioè capire dove ti trovi, dove ti trovi, dove sei, cosa stai facendo e quindi comunque insomma devi tenerne conto perché altrimenti vuol dire che tu non hai percezione di dove sei, non hai sensibilità. Cioè io sono, questo, quando tu dici cross mediale, io sono un po' un camaleonte, perché io cerco sempre di capire dove sono, cosa sono, cosa sto facendo. Io faccio tante cose diverse anche per questo, perché l'importante è cercare di non fare mai figuracce. No, cioè questo è un paese dove si grida molto alla figuraccia e le persone cercano di aspettare che tu sbagli piuttosto che non può, come dire, portarti in alto o di ammettere che stai facendo una cosa fatta bene e quindi io cerco un po' di capire dove sono. Poi, sai, nella televisione sono io che entro a casa della gente, non è la gente che viene da me, quando la gente viene da me liberi tutti, io nei live mi diverto come una matta, però se io sono magari in prima serata su Canale 5, su Rai 1, io non, cioè ci sono degli editori, cioè banalmente anche la percezione di sapere che tu dividi il palco con altra gente, cioè ho fatto la Unziker, a me non posso fare come mi pare, è programmata la Unziker, perché se io dico qualcosa che non va, poi è lei che colpiscono, è la rete che colpiscono, ci sono delle altre persone, cioè non è che uno va e dice, sai, sono io, eccomi, sì ma non ora, cioè non so Benigni, non so come di, perché comunque Benigni arriva ed è già Benigni, comunque anche Benigni deve fare i conti con un editore, cioè ci sono delle altre persone con cui dividi il tuo spazio, quando è il tuo spazio fai come ti pare, per me quando dividi il tuo spazio con altre persone rimani sempre fedele a te stesso, ma sai che entri in casa da altri, io penso questo. Senti, viviamo anche in un periodo, in un'era in cui gli eventi si sosseguono a una velocità tale, no? Per cui se tu cominci a fare ironia su un tema, rischi che veramente a distanza di un mese già diventa una cosa vecchia, non mai passata, se vogliamo. Questa cosa anche influisce, immagino, no? E so influisce anche la sensibilità del pubblico che è un po' cambiata, cioè nel senso rispetto magari a qualche anno fa, no? E adesso magari si vuole ridere più subito, su cose più immediate magari, no? Senza star troppo a riflettere. Certo, sì, è vero, è vero. Se ti fai riflettere troppo poi magari ecco diventa un problema anche, giusto? No. No. Cioè nel senso che io lo capisco, ma è un tipo di comicità, ti ripeto, tu puoi fare, io posso fare sia l'una che l'altra, posso fare la battuta, cioè la battuta su Will Smith tra una settimana finisce, anzi è già finita, però tu devi, cioè non devi ragionare andando incontro al pubblico, sei tu che devi dettare il tuo linguaggio e poi gli altri si adatteranno a te, se no che lo stanno a fa fa. Giusto. No, cioè non bisogna subire, devi imporre e quindi tu puoi un pochino andare contro, cioè andare incontro, scusami, altre volte però devi imporre. Bene, giusto. Allora, senti, tu hai cominciato a fare il tuo lavoro, diciamo, dal 2015, giusto? Sì, dal 2014 al 2015. Con colorato, poi hai fatto un sacco di cose, perché io qua me le sono scritte, perché ne hai fatte tante, già c'è, sono passati tipo sette anni, ma già hai accumulato tantissima esperienza, no? Comedy Central News, poi hai fatto i film di Babysitter con Mandelli, di collaborazione con quelli del calcio, di quei ragazzi, sì, tutto è scritto, bandati, radio web, bandati una puntata, sì, tutto, tutto, mamma mia, tutto. E poi, insomma, hai fatto anche LOL, insomma, hai fatto ovviamente tanta roba, diciamo. Allora, sei arrivata al successo adesso, diciamo, no? Oddio. Te riconoscono per strada? Sì, mi riconoscono per strada. Ti chiedono i serfi? Sì, a Roma più al mio fidanzato che a me, perché il mio fidanzato fa Radio della Roma, però in Italia sì. Sai che a Roma, se fai Radio della Roma, comunque è difficile. Cioè, beh, ma sei il papa, sei il figlio del pa, sei il figlio del cardenal nepote, praticamente, sei Cipione e Borghese. È in piena concorrenza difficile, diciamo. Senti, come lo gestisci, però? Ti senti maggiore responsabilità quando fai determinate cose? No, io ti dico la verità è che io mi sciocco un po', perché delle volte mi dimentico la mia dimensione. D'altra sera, per esempio, cioè dipende, io sono un po' un gatto, non sono un po' diversa nel privato, cioè, tipo, ti devi avvicinare con cautela, perché sennò io mi spavento. Tipo, l'altra volta stavo, mi è anche dispiaciuto, sono scesa dal treno per Milano, stavo andando a cena con gli amici miei, e entro in un locale e uno mi fa, Michele Giro, e io tipo, mi giro e faccio, tipo, tipo gatto, sì, e entro dritto, non è che dico un sorriso, una cosa, ma perché io mi spavento, cioè, perché è come se io delle volte fuori casa, cioè, io mollo tutto e dico, ma io mi voglio andare a mangiare un piatto dei ricatoni, e quando però, delle volte è una mia cosa, mi dimentico e magari hanno appunto visto altre cose, CCN, LOL, insomma, e quindi un pochino mi, non so come dirti, mi sciocco ancora, e invece delle volte, che capita più delle volte quando sono un po' stanca, che lì proprio mi dissocio completamente, invece quando sono in buona e qualcuno lo fanno in maniera carina, io mi fa molto piacere. Allora, magari, ecco, il consiglio che diamo è, se dovete avvicinare a Michele Giro, non le urlate il suo nome. No, ma non so, Francesco Dottore, l'Iblati, eh, figurati, però può, capita, ecco, cioè, io ancora, sono un pochino tipo gatto. Senti, prima di passare, di chiudere la nostra chiacchierata, parlando dell'aspetto sportivo, che tu hai già detto che non sei molto sportivo, però ne parliamo. Io però insisto, perché sono uno che comunque martella. Allora, dove ti, adesso che cosa farai? Continuerai questo spettacolo, quindi, che tu presenti su Netflix? Io continuo, e ti dico le date, che so, sì, però è un po' diverso. Il 28 aprile a Torino, il 14 maggio al Teatro Brancaccio, il 23 al Teatro Nazionale, a Milano, perché io dico sempre centrale, invece nazionale. Poi sarò a Prato, a Giugno, poi sarò prima tra Roma e Milano, me lo sto dimenticando, ma sarò a Taranto per la prima volta. Poi sarò, insomma, a Alguero, a tutta Italia, tutta Italia, tutta Italia. In attesa di fare gli altri 189 paesi, però. Esatto, dove speriamo vada. E praticamente, insomma, sì, sarò lì, però sarà una visione, un po' una revisione, perché non posso portare quello paro paro, ci sto già lavorando. Bene, bene, non aggiungiamo altro, perché poi lo vogliamo ovviamente venire a vedere dal vivo. Allora, io mi sono informato su di te, ha fatto delle ricerche su internet, scusa, mi ha fatto un po' da stalker. So finito su questa pagina, che non so se la conosci, si chiama Wikipedia, non so se la gentilità dice, ma dimmi se è vero o no. Sì, sì, devo stare per fare le ricerche sugli obelischi quando... Brava. Stavo a liceo, vai. Allora, mi dice, Michele Girò, leggo un po' testuale, è bisnipote di Alfredo Girò, vicepresidente del Savoia. Girò, Girò. Girò, scusa, non Girò, scusa, quello è l'attaccante di Milano. Perché Girò è l'attaccante di Milano che ha più soldi. Però, certo, sì. Se avessi un euro, tanti quanti ne ha Girò, ti è sicuro. Esatto, allora, bisnipote di Alfredo Girò, presidente del Savoia, finalista del campionato di prima divisione nel 23 e 24 a cui è intitolato lo Stato Torrese e nipote dei calciatori Raffaele, Michele e Giovanni. È tutto vero? Sì, è tutto vero, sì. E io sono... Sì, è stata... Del Savoia, quindi? Io sì, sì, del Savoia. E io ricordo questa cosa... Quando il Savoia andò in Serie B, avevo 12 anni e mi volevano far tirare il calcio di rigore e alla cerimonia del Savoia, grazie a Dio non è successo. Sono molto contenta perché i tuoi immagini erano di una bambina di 12 anni con tutto il suo bagaglio culturale importante, che era l'insicurezza dell'adolescente. Per fortuna lo fece mio zio Giovannino e lo ringrazio di questo gesto che agli occhi di mia nonna venne preso con un po' di dispiacere e invece a me mi fece un grande favore. Per lui non ho detto, mio zio non l'ho mai saputo. Tu Ricordi non l'hai mai tirato? No, per carità di Dio, ma io ero proprio... Io l'ho lo sport, amici miei no, proprio no, un grande dolore. Mio nonno mi ha provato a insegnare a nuotare, a giocare a tennis, niente, niente di niente. Però a casa giro la sera, quando ci sono le partite, ad esempio, della Roma, perché tu comunque sei simpatizzante o tifosa? No, aspetta, io sono tifosa. Tu sei tifosa, diciamo. Io sono stata tanto tifosa, poi sono stata simpatizzante, ora ritorno a essere tifosa. Te lo dico, perché con la Lazio questo distinguo non si può fare, perché sai che per i laziali la Lazio è la vita. Cioè la Lazio è tipo, perché io vengo, la mia famiglia è tutta della Lazio. Ah, ok. E io ho scelto di essere della Roma. Beh, è un bel gesto di coraggio. È un gesto di coraggio, però ti dico che in casa mia il calcio non piace, perché mio padre vedeva il calcio con un po' di, sai, il calcio era quello che ha tolto mio nonno dalle attenzioni un po', no, di padre, no, perché sto calcio era molto imperante. Quindi io ho vissuto questa passione per la Roma in maniera molto solitaria e la mia passione è rimarrà per sempre la Roma di Zeman, con Balbo, con Di Francesco, con calciatori che nessuno si ricorda, tipo che ti posso dire, io mi ricordo che c'era, oddio, Alenicef, poi c'era, aspetta, c'era Alenicef, poi io mi ricordo, no, se lo ricordano è come, poi c'era Consel, c'era Cafu, Aldair, Pendolino Cafu, questa Roma è sempre per il Brasile, tutto. Quindi era la Roma Zemaniana più che quella di Mazzone, insomma, se vogliamo. Sì, e chiaramente poi mi innamorai perdutamente di Francesco Totti, a cui ho scrissi all'elementare dei biglietti sulle mille lire dicendo, caro Francesco, io faccio ricreazione alla scuola media di Onigio Romeo Chiodin, via Piano, dalle dieci e mezza alle undici, per favore venimi a trovare. Non mi venne mai a trovare, non ho mai conosciuto Francesco Totti, tranne una volta che lo vedi da lontano con l'Irari al caffè Tazzadoro di Via Cola di Rienzo, che io ero con un ragazzo che mi stava dicendo, Michela mi dispiace, ci stiamo lasciando, non me ne fregava una mazza perché io avevo Francesco Totti qua, io facevo, perché c'è tutto il tempo. E questo diceva, ma mi sta ascoltando? No, cioè questo mi stava mollando e a me non me ne fregava niente perché dietro di lui c'era Francesco Totti, io ad oggi non l'ho mai incontrato e non so se lo voglio incontrare perché per me incontrarlo è tipo incontrare un santo, capito? Cioè, mi senti Santi Cosma e Damiano, no, che a Ravenna sono dipinti con l'Aureola e i mosaici d'oro, per me questo è Francesco Totti. Rischi che poi gli urli, Francesco Totti, lui scappa. Esatto, esatto, no, no, io non mi paralizzo, una volta, pensa, quando sono andata a vedere Roma-Inter, praticamente c'era lui allo stadio e a un certo punto ho detto, vi prego, me lo fate vedere da lontano, non si poteva chiaramente, quindi io lo vedi da lontano di profilo, io prima vedi Di Biagio e quando ho visto Di Biagio, Di Biagio dico, vabbè, è mio zio, per me Di Biagio è tipo zio, perché nel mio immaginario, e io vedo questo profilo, questo dell'Inter mi porta, io che piangevo, mi fa Madonna, ma allora è proprio così importante, per noi è veramente così importante. Chiudiamo qui, perché mi sembra perfetto questo ricordo, è meraviglioso, veramente hai fatto la chiusura perfetta, allora Michela io ti ringrazio di essere stata la nostra ospite, ricordiamolo quindi l'appuntamento dal 6 aprile su Netflix, giusto con il tuo spettacolo. La verità lo giuro. La verità, lo giuro, tutta la verità, mi raccomando. Tutta la verità. Tutta la verità. Allora, grazie mille Michela, a presto, grazie, un saluto a tutti, alla prossima.